Al Policlinico di Palermo è stato presentato il progetto My Hospital Hub Pro, il sistema che permette ai medici di monitorare in tempo reale l'andamento della malattia di ogni paziente, personalizzare follow-up e raccogliere dati in modo anonimo e standardizzato. Una best practice che migliora la qualità di vita del paziente e l'utilizzo delle risorse economiche del sistema sanitario nazionale. Questo è uno dei progetti che TACAE d'Italia, al fine di essere altamente innovativa, di solito mette in piedi insieme alle istituzioni, quindi in una partnership pubblico e privato, in questo caso di telemedicina, cioè un sistema che aiuta i pazienti, nelle visite follow-up ovviamente e non nelle visite principali, ad essere visitati e in qualche modo televisitati dai medici in modalità remota. Questo evita ovviamente il sovraffollamento della struttura, l'efficientamento delle risorse, in questo caso sempre tra struttura sanitaria, ma anche una migliore qualità di vita dei nostri pazienti perché così possono ovviamente avere magari più frequenti incontri, possono sentirsi più tranquilli senza uscire di casa, senza viaggiare e quindi essere più controllati. Ecco, quanto può essere importante la telemedicina oggi, nel 2023, dopo una pandemia che ha potenziato i servizi digitali? Allora, la tecnologia va utilizzata. La tecnologia esiste già da tempo per la telemedicina. La pandemia ci ha dato l'occasione di metterla alla prova ed è stata un'occasione in qualche modo vincente, a dispetto purtroppo della pandemia stessa. Ha permesso quindi, in un momento ormai, diciamo, storico di risorse limitate, di migliorare l'efficienza nella gestione dei pazienti, nella gestione dei follow-up, nell'attività, evitando appunto, quello dicevo prima, il sovraffollamento delle strutture, maggiori visite, con ovviamente una frequenza più importante, e un controllo più periodico dei pazienti stessi. L'idea nasce dalla nostra convinzione che la partnership pubblico privato è essenziale per poter realizzare il sistema salute del futuro. E da questo punto di vista abbiamo subito colto l'invito a realizzare questo progetto di telemedicina con l'ospedale Giacone e con il nostro partner, con il quale abbiamo già realizzato altri progetti, cioè Adilife, per la gestione dei malati cronici a distanza. Reputiamo infatti che la telemedicina sia un elemento fondamentale che debba aiutare il sistema salute a muovere i dati piuttosto che i pazienti. Ed è questo il motivo per cui abbiamo subito risposto con entusiasmo a questo appello. Grazie a tutti.